Bentornati in studio per le notizie di oggi 21 luglio 2020. L'amministrazione comunale ha comunicato in tarda mattinata che domani sarà regolarmente garantito a Sciacca il turno di ritiro dell'umido. La comunicazione della regolarità di un servizio è il segno che qualcosa purtroppo non funziona. La Sogei Rimpianti che gestisce il centro di compostaggio ha predisposto una gara per conferire l'umido in eccesso in un'altra struttura in Sicilia, ma non ci sono notizie sui tempi di attuazione e comprobabili disservizi che in estate possono creare gravi situazioni di emergenza. Problemi anche con la frazione indifferenziata dopo la chiusura dell'impianto di Alcamo. Se non arriverà una deroga rischia di saltare il turno di ritiro della spazzatura di giovedì in tutta la città. Le organizzazioni professionali agricole e i comitati del coordinamento attivato per esaminare la vicenda dell'impianto MyEthanol in contrada piana hanno incontrato ieri sera il sindaco Francesca Valenti e continuano ad aspettarsi azioni concrete dopo la richiesta ormai avanzata da mesi dell'annullamento in autotutela delle autorizzazioni che erano state date al progetto dell'imprenditore Moncada. Organizzazioni e comitati che si dicono delusi dall'amministrazione e dalla politica locale e regionale chiedono da tempo notizie certe sulla compatibilità o meno del progetto con l'ambiente circostante e il mondo agricolo ma non sono arrivate risposte. È stata costituita Sciacca l'associazione di promozione sociale denominata Salvatore Cantone. L'associazione ha scopo di studiare e valorizzare i beni culturali, ambientali, archeologici, architettonici, storici ed artistici del nostro territorio. È intitolata al professor Salvatore Cantone per ricordare e rendere omaggio a uno studioso di Sciacca. Le cariche sociali sono state così distribuite. Presidente onorario Riccardo Pelella, presidente protempore Rosa Castagno, vicepresidente Anna Macaluso, segretario Salvatore Di Marca, cassiere Lillo Cantone. Il maltempo che nei giorni scorsi ha fatto ingranare all'estate siciliana un'inversione di marcia ha terminato la sua corsa. Nubi fragi e bombe d'acqua che non pochi disagi hanno causato a Palermo alcuni giorni fa stanno cedendo il passo a un ritorno dell'anticiclone africano che porterà clima caldo e soleggiato. In risalita la colonnina di mercurio che entra oggi e entro oggi e domani dovrebbe attestarsi in Sicilia intorno ai 36-37 gradi specie nelle zone interne dell'isola. Anche nel fine settimana temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi. Per il calcio, secondo posto per i saccensi Vincenzo Piazza e Emanuele Allegro alla settima edizione di Penalty Awards, la manifestazione che ogni anno premia i protagonisti dei campionati dilettantistici siciliani. Piazza, che ha guidato l'Unitas Sciacca nell'ultimo torneo di promozione, era nella nomination come migliore allenatore nel campionato di promozione vinto da Alfio Torrisi dell'ACI Sant'Antonio. Allegro invece che giocano nel Castel Termini era tra le nomination della classifica di miglior portiere del campionato di promozione, vinto da Alessio Gulisano dell'ACI Sant'Antonio. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Giopresti a Corriere di Sciacca.it Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.